ottima dj10 siamo qua vai puoi dire puoi dirla dilla dilla canale youtube di simotobia esatto no simotobia vai diti quello che vuoi puoi dirlo solo così per il canale chiusi no vabbè forza milan te puoi dire qualcosa a tutti siamo qua e ci stiamo dopo una corsa di 5 chilometri bevendo una salutare diretti quindi te che sei tutto fabio come si chiama questo qua il baffo come si chiama baffo si chiama simone moretti no allora baffo dato che ti stiamo facendo pubblicità caccia risordi cacci soldi esatto per questa birra al parco sempione hai giusto la medaglia vuole far vedere che tutti ce l'abbiamo la medaglia del tec a parte che ti mostra la medaglia sono tutti uguali la medaglia anch'io ce l'ho mostra il polpaccio di chi ha corso il far vedere il polpaccio di chi ha corso polpaccio di uno che corre abitualmente tutte le domeniche al parco sempione colpaccio di uno che scappa dai cani abitualmente no balotelli sapete come mai corre così veloce perché da piccolo era abituato a scappare dai leoni quindi adesso corre così velocemente perché ci sono i leoni a palermo no a brescia a brescia perché balotelli è di brescia è nato a palermo ma i leoni li ha incontrati a brescia esatto comunque dopo questo simpatico video anche te puoi dire qualcosa va bene dopo questo iscrivetevi tutti su simotobia il canale di youtube ti aspettiamo al milan balo l'ultima stronzata ti aspetto fuori ciao